E buonasera, ben trovati al centro sportivo Agile Soccer per seguire l'incontro valido per la finale della terza edizione del Torneo Allegea, scendono i cap le formazioni del centro revisione Cesaroni e lo studio dentistico Laperini, formazioni che si equivalgono e che hanno dato vita ad un match veramente interessante. Le azioni salienti partono dal quinto minuto con Rinaldi che fa partire il tiro ma fa il solletico a Baccini che riesce a bloccare senza preoccupazioni. Ancora al dodicesimo minuto Dotto colpisce l'esterno della rete e dopo un aggancio al volo parte il tiro e Baccini tira un sospiro di sollievo. Ancora al tredicesimo lo studio dentistico Laperini che si fa vedere con un tiro di Nicola Nobili che fa la barba al palo. Ed ecco quindi lo studio dentistico Laperini che prende il sopravvetto con Rocchi che impegna Serafini e devia di pugno di fuori dello specchio della porta. E quindi colpita nell'orgoglio il centro revisione di Cesaroni passa in vantaggio con appunto il suo bomber di punta Cesaroni che segna con un tap-in sul tiro sporco dai 20 metri. Allora ecco che ancora Dotto ruba il pallone a centro campo i pediamancini con una deviazione a mano aperta respingendo in calcio d'angolo. Termina qui il primo tempo risultato sostanzialmente giusto vantaggio di 1-0 per la formazione del centro revisione Cesaroni. Parte quindi a sprombattuto alla ricerca del pareggio la formazione dello studio dentistico Laperini su assist di Rocchi di Leonardo impegna Serafini che sbalancia e Rocchi sbaglia il più facile dei gol a un centimetro dalla porta. Ancora la ricerca del pareggio la formazione canarina con Coppini che pasticcia nel girarsi ma conclude bene trovando Serafini poi Falchi sciupa tutto da due passi. La pressione della formazione dello studio dentistico Laperini trova i suoi frutti con un gol da manuale del calcio tutto di prima colpo di tacco di Rocchi che segna a 2x2 con Serafini e porta in parità il risultato. Al quarantesimo ancora un tiro di Rocchi poi calo di zuccheri di Cardinali che appoggia dopo un controllo maldestro al bomber Rocchi che appunto buggerà Serafini. Al quarantaciquesimo dotto agguanta il pareggio con un pallonetto su Bacini che forse era fuori posizione. Ed ecco quindi poi il gol del vantaggio definitivo con Rocchi che controlle dopo essersi accentrato trafigge allo scadere Cesaroni e compagni. Sembrava tutto finito ma poi al cinquantesimo le ultime speranze di Cesaroni e compagni si infrangono contro il palo dopo un calcio di punizione di dotto. Termina l'incontro e la formazione dello studio dentistico Laperini si aggiudica la terza edizione del trofeo e leggea tra la gioia dell'allenatore ma soprattutto del presidente Savino che ha garantito a tutti uno sbiaccamento dei detti a 20 euro.